Ciao a tutti, oggi vi parlo dell'anglo-arabo, richiesta di Sunset Horses27 che ci ha richiesto questo cavallo. L'anglo-arabo. L'anglo-arabo è un incroso tra la razza araba e il puro sangue inglese. Ha la bellezza e l'intelligenza dell'arabo e le dimensioni e la velocità del puro sangue. La razza ebbe origine in Inghilterra, ma il suo sviluppo avvenne in gran parte in Francia. Endurance. Gli anglo-arabi, così come gli arabi di sangue puro o misto, gareggiano con successo nelle gare di endurance sulla lunga distanza. I cavalli devono essere in piena forma e avere buona resistenza, dovendo percorrere fino a 80 km in un giorno, ad una velocità media di 14-15 km all'ora. Alcune gare di endurance durano per più di un giorno. Il profilo della testa è più dritto rispetto all'arabo e il cavallo assimilia maggiormente a un puro sangue per via della sua taglia, più grande. Le zampe lunghe gli permettono di muoversi con gran velocità. La taglia gli permette di accelerare nelle gare di completo e di salto ostacoli, così come nel dressage. Il garese è più alto rispetto all'arabo. Le zampe hanno ossa forti. La testa ha la tipica espressione gentile dell'arabo. I posteriori sono forti, il corpo è largo nella zona del sottopancia. Fatti e cifre. Altezza 157-168 cm. Colore Baio, sauro, baio scuro, grigio. Usi, sella, endurance, dressage, salto ostacoli. Spero che il video vi sia piaciuto. E appunto, come ogni video ormai, chiedetemi altri cavalli, grazie. Se volete continuare questa serie comunque. Ciao!